salve a tutti ragazzi benvenuti a un nuovo video sono qui per annunciarvi delle notizie molto importanti insomma non batiamoci in chiacchiere non sono qui oggi per farvi vedere un'ultima volta la mia casa perché sia appunto un'ultima volta perché molto presto io mi trasferirò quindi la mia famiglia si trasferirà andrà via da qui solo questo posso dirvi quindi questo è l'ultimo ricordo che voglio condividere con voi tutti insieme nella mia ultima volta in questa casa in cui ho vissuto vent'anni quasi eccoci qui tanto per ricordare questa bella mia play come ben sapete questa è la mia tv alcune cose rimaranno qui i cassetti non ve li farò più vedere sono vuoti ormai tutti e quattro quindi purtroppo il video che volevo mostrarvi per ora non non si farà ragazzi mi dispiace questo sta il letto in cui ho dormito per vent'anni io sotto e il mio petello sopra lo mettiamo il computer il nostro armadio la finestra la postazione computer questo è detto le scatole non scherzo questo è il nostro balcone oggi piove un po vabbè ma sono dettagli vi faccio vedere la stanza tutta insieme scato c'è un po di mettiamo flash o di buio ecco qui ciao mio fratello quando era piccolo saluta bro e basta il mobile che abbiamo qui devo mettere carica batteria e robe varie questo è lo sgabuzzino che ben presto vuoto resterà questa come la ricorderò sarà la camera sarà era la camera di mia mamma ecco di qua con il nostro pure armadio specchio grande che rimana qui purtroppo ragazzi come vedete questa casa è vecchia e dopo anni finalmente noi la banderemo questo è il bagno non volete fermarmi troppo a mossalo perché è un bagno questo non avevo visto che da ferrari il nostro bellissimo quadro che purtroppo non funziona più poi mortale un'ultima volta faceva i rumori delle cascate una volta la vasca davvero ridotta male male tutti i prodotti c'è insomma il bagno ci siamo stavamo qua dove tenevo quando dovevo parlare qua al passato tutta la roba per pulire e fare al barbo e basta questo è il corridoio per ora come stiamo ma c'è le nostre scatole che vedete stiamo per partire la volta anche per uscire come vedete è stata davvero una lunga lungo viaggio insomma qua abbiamo dei farfalle finte credo più o meno e tutti i quadri quadri che abbiamo davvero da un sacco sacco di tempo oh non ci soffermiamo troppo anche questa bacheca qualcosa da porteremo forse e a bago viene dalla sicilia per esempio fin da inizio che abbiamo che immagino che porteremo questa ragazzi è vilcogliote di dei luni toons di warner bros non sa neanche come l'ha tenuto questa abbiamo un angelo anche immagino che stava siciliano e non credo che dovremmo lasciare qui dio mio a cui so anche ricordi dei miei nonni figurati che avevo la mente da un sacco un sacco di tempo un po' rotti purtroppo ecco che no si esce anche più che un angelo peccato e niente questa era la cucina anche che anche da sfendo ci voglio ricordare insieme a voi molte cose che lasceremo qui per ovvi motivi anche questo enorme quadro della frutta aspettate ve lo faccio vedere le robe che abbiamo avuto in questi anni che lasceremo qui non voglio dimenticarle ma stelle anche questo frigorifero ci lascerà che abbiamo conosciuto almeno per un anno è stato bello e carino scusate se non posso fare molto taglio di video ecco qua il quadro della frutta bello ma se caderebbe si spaccherebbe tutto e il mio balcone rotiniamo le scope e qui la lavatrice purtroppo salviamo strani ecco qui ecco qui tutto quello che abbiamo avuto in questi anni rispettate che si guida pure male quindi figuratevi ecco il nostro balcone purtroppo la tenda si è ridotta davvero male perché sono venuti parecchi parecchi ospiti diciamo insomma insetti parlo quando di quelli e che hanno dato parecchi problemi anche e ecco qui basta ragazzi questa era la mia casa e spero che cioè spero di poterla ricordare almeno insieme tutto ma se li brillano al buio ragazzi con le cose che hanno capisco e noi siamo qui pronti per andarci fra un po' quindi tutti i video che purtroppo volevo portare mi toccherà rinviarli per per fra un po' fino a quando si sistemano quindi voi aspettate e noi ci vediamo direttamente a un prossimo video che sarà immagino nella nuova casa direttamente perché ne abbiamo di roba a fare ragazzi qui è tutto da Chris Thunder e ciao 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 ciao